...attentivo, poi per terminare le informazioni di situazioni di tutta l'altra. Quello secondo attentivo che vi è stato mandato il mail è 9 della Commissione della Comunità di Cesena, Ancimiglia Romani, 1 del Comune della Vescomania, 11 centi, 1 del Comune di Fisichene, a caso della Sede Rotterra, 4 in più, 1 del Comune della Valente, 50, 1 del Domeni, Germania Romani e Borghi, per la vera difesa di ogni esercente società che ho approvito a metodo alloggiato dove la passata c'è un dei, un'attività di linea, c'è un'attività di 5 centi, un'attività di sui tanti, la Sede Rotterra, 5 centi, la Paglia di Fesichene, ci vediamo sulla Rò in Poltencia e altri. Però, per la costituzione dell'ufficio associato ai effetti di tutta la protezione delle risposte, con le immunità delle sue posizioni del rapporto con le persone andate dentro. Se fate caso, in questa condizione non c'era per la Wright. Passo avrò a la Sede Rotterra in una tendenza. Grazie. Come già annunciato il Sindaco, qui andiamo a ripresentare di nuovo la condizione tra i comuni che sono stati elencati per la costituzione dell'ufficio associato interjudiciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie dei rapporti di lavoro del personale dipendente. In pratica questo è già in vigore e già stato utilizzato da comunità donese e quindi siccome è in scadenza alla fronteina d'anno dal 2012-2012 si propone il rinnovo fino al 2012-2017 e come potete aver visto già nella delega che vi è stata consegnata il costo presunto è di circa 1920 euro all'anno. Anche questo può avere delle piccole variazioni perché è legato a non dei dipendenti. Io non avrei invitato ad aggiungere se richiede le domande. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.